Omicidio di Iris Setti a Rovereto. Oggi il GIP ha convalidato l'arresto di Nwik Cioquoca. Intanto in città si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Santarelli, presente anche il sottosegretario agli interni, Nicola Molteni. Ma per capire cosa sia emerso da questo incontro, ci colleghiamo in diretta con Lucio Fava del Piano. Sì, buongiorno da Rovereto. È terminato pochi minuti fa l'incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Una riunione lunga, circa due ore e mezzo. Tanti i soggetti rappresentati intorno al tavolo, come dicevate il sottosegretario agli interni Molteni e poi il commissario di governo Santarelli, il Presidente della provincia Fugatti, i sindaci di Rovereto e di Trento, Valduga e Ianeselli, che state vedendo in questo momento mentre vanno via, e poi i rappresentanti della magistratura, delle forze dell'Ordine e anche dell'assessorato alla sanità e dell'azienda sanitaria. La domanda a cui si cercava di dare risposta era soprattutto cosa non abbia funzionato, cosa abbia fatto sì che Chukukanweke sia stato nella possibilità di continuare a creare problemi fino alla mortale aggressione a Iris Setti sabato sera. All'uscita il sottosegretario Molteni ha voluto rassicurare sul fatto che il governo ha preso in carico in qualche modo la questione, proponendo e portando avanti già con un decreto delle misure più stringenti per un allontanamento dal territorio nazionale più rapido e più certo di soggetti stranieri che compiano determinati atti di violenza. Allo stesso tempo si parla anche della necessità di potenziare i servizi di assistenza e di cura per le persone più fragili. Il sindaco di Rovereto, Valduga, ha invece fatto notare come dalla riunione siano emerse alcune zone d'ombra, di confine tra le responsabilità e le possibilità di intervento dei diversi enti interessati. Non finisce qui, se ne continuerà a parlare, vi aggiorneremo nei prossimi notiziari. Da Rovereto per il momento è tutto, linea allo studio. A presto!